Ieri sera a San Pietro in Bevagna, i gnoti, mediante l'utilizzo di liquido infiammabile, hanno appiccato un incendio ad un'abitazione estiva. Le fiamme, che hanno causato la distruzione dei mobili e l'annerimento delle pareti della camera da letto, sono state spente dai vigili del fuoco di Manduria, indagano i carabinieri.